Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Oggi parliamo insieme della biografia e delle opere di Leonardo Sciascia. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Le idee non contano più, contano i profitti, il dare l'avere, la violenza assume un peso più determinante e lo spirito pubblico cade. Leonardo Sciascia è un autore molto importante si contraddistingue per la sua lotta contro la mafia. Spesso è un autore accantonato alle superiori che però viene recuperato all'università nel caso in cui si scelga una facoltà umanistica. In ogni caso io vi consiglio di leggere Il giorno della civetta. Leonardo Sciascia nasce nel 1921 a Racalmuto in Sicilia. Il padre era impiegato nella stessa Zolfatara nella quale prima suo nonno faceva il caruso. Sciascia è anche il primo di tre fratelli e studia nel suo paese, quindi studia in Sicilia ed è sempre un appassionato di letteratura. Durante poi l'adolescenza si trasferirà a Caltanissetta per frequentare la scuola magistrale. Infatti per alcuni anni Sciascia è proprio maestro, maestro di scuola ai tempi elementari, ora è detta scuola primaria, però ai tempi si chiamava ancora scuola elementare. Si forma leggendo i testi di Voltaire, il filosofo francese, di Beccaria, per esempio sulla pena di morte, e anche dei fratelli Verri. Oltre ad essere un appassionato di letteratura, è un grande appassionato di cinema. Pensate che portava sempre con sé un taccuino nel quale scriveva delle recensioni proprio sui film che vedeva. Delle recensioni con una sorta di stellina. Darà delle valutazioni da 1 a 5, un po' come se fosse l'anticipatore delle recensioni che oggi troviamo online. Finisce la scuola magistrale e nel 1941 si iscrive all'Università di Messina, ma non si laureerà mai. Lavorerà come impiegato, poi come vi dicevo, come maestro a Regalpetra, titolo peraltro di uno dei suoi romanzi, Le parrocchie di Regalpetra. Nascerà poi il lavoro di maestro e inizierà ad avere una carriera come scrittore. Durante la carriera come maestro aveva anche conosciuto la moglie, che invece continuerà ad essere insegnante. Nel 1944 si sposa proprio con Maria Andronico e con lei ha due figlie. Abbiamo visto che Shasha non vive la prima guerra mondiale perché nasce nel 1921, però vive il fascismo e vive anche la seconda guerra mondiale. Nel 1950 pubblica le favole della dittatura per combattere, parlare in forma allegorica però, della dittatura attraverso le favole di Esoppo. L'ironia non è perfettamente il ridere, l'ironia è un distacco dalle cose, un modo di giudicare le cose. Negli stessi anni conoscerà Pierpaolo Pazzolini che recensirà anche positivamente proprio le sue favole della dittatura. Su Pierpaolo Pazzolini abbiamo già una video lezione che vi lascio qui per un ripasso. Peraltro Pazzolini è un estimatore di Shasha, infatti lo menzionerà anche proprio per il suo stile nel testo La confusione degli stili in un saggio in cui analizzava le tendenze e gli stili più in voga della letteratura italiana. Shasha è un grande appassionato di Pirandello, infatti tra le prime pubblicazioni, oltre alla Sicilia e al suo cuore, abbiamo proprio il saggio Pirandello e Pirandellismo, ancora molto utilizzato per la lettura di Luigi Pirandello, la sua comprensione come autore e pubblicherà anche delle lettere inedite di Pirandello al critico Adriano Tilger. Però il romanzo, più che romanzo è una raccolta di racconti che gli dà il successo è sicuramente Le parrocchie di Regalpetra del 1956. Italo Calvino è lo scopritore, potremmo dire, di Shasha e scrive una lettera ad Alberto Carrocci, della casa editrice Carrocci. E gli scrive ti accludo uno scritto di un maestro elementare di Racalmuto, in provincia di Agrigento, che mi sembra molto impressionante. Nel 1956, come vi dicevo, questo scritto viene pubblicato, pubblica Le parrocchie di Regalpetra. Questo progetto è frutto poi di un sodalizio, quindi di un rapporto proprio con la terza, la casa editrice alla terza, perché già Shasha aveva iniziato a scrivere delle cronache scolastiche sulla sua esperienza come maestro elementare. Poi, a partire da queste cronache, sviluppa Le parrocchie di Regalpetra. Negli anni 60, Shasha scrive diversi romanzi significativi, Gli zi di Sicilia, Il giorno della civetta, molto importante per la lotta e la denuncia sulla mafia, Il consiglio d'Egitto, la morte dell'inquisitore e a ciascuno il suo. Negli anni 70 si trasferisce però a Palermo, anche se per scrivere torna spesso alla città natale a Racalmuto, dove a Palermo in particolare riesce ad osservare tutte le trasformazioni sociali che caratterizzeranno la Sicilia degli anni 70. Per me scrivere è come vivere. Io quasi tutti i libri, anzi tutti ad eccezione di uno, li ho scritti in Sicilia, in campagna, nella stessa stanza, guardando lo stesso paesaggio. Sono questi gli anni in cui Shasha è molto intraprendente anche dal punto di vista giornalistico. lui scrive, scrive per il Corriere, scrive poi per la stampa e peraltro il Corriere è anche il primo dei giornali ad aver allestito la terza pagina. La terza pagina era stata inventata, la pagina di cultura, nel 1901 in occasione della messa in scena di uno spettacolo di D'Annunzio, la Francesca da Rimini. E la terza pagina è la pagina culturale. Negli anni 70 continua la produzione dei romanzi di Shasha, dove troviamo romanzi molto molto importanti come Il contesto, Il mare colore del vino, Todo modo, La scomparsa di Majorana, sulla scomparsa ancora risolta di Ettore Majorana. Candido dove rimanda, abbiamo detto, Shasha è un appassionato di Voltaire e riprende quindi il candido per certi versi già nel titolo Un sogno in Sicilia e poi l'affaire Moro, perché Shasha sarà anche impegnato nell'indagine sul caso Moro. Già dalle parrocchie di Regalpetra, quindi dagli anni 50, 1956, Shasha ha una componente proprio civile molto forte. Infatti, negli anni 70, oltre a scrivere di mafia, oltre agli sui articoli proprio sui giornali, si batte, per esempio, per la campagna sul divorzio che in Italia abbiamo dal 1974. Tenterà anche la carriera politica con il Partito Comunista Italiano e viene anche eletto nel 1975 come consigliere regionale a Palermo. Altro che ingovernabile. L'Italia è un paese ingovernabilissimo in cui la gente sopporta tante cose. La mia idea è quella di uno Stato liberale abbastanza forte. Il mio slovane sarebbe questo, contro le Brigate Rosse e contro questo Stato. Nel 1978 c'è il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Altro argomento del quale sarebbe molto importante parlare a scuola e non solo. E in questo contesto si occupa dell'affare Moro e pubblicherà un pamflet su questo tema anche per dare una lettura diversa del fatto accaduto, sul quale ancora però aleggia un alone di mistero, potremmo dire. Credo nel male, nella oggettività direi del male e nella ineliminabilità del male. La sua attività al Parlamento però si conclude, quindi alla fine degli anni 70 e poi negli ultimi anni della sua vita lui si dedica alla scrittura, senza però rinunciare al ruolo civile. Continua a scrivere di letteratura, di storia, ma anche di attualità, di mafia, di terrorismo. I parti dei suoi scritti dal 1989 sono raccolti nell'opera A Futura Memoria. Negli ultimi anni fa tante inchieste, scioscia, cronache, però abbiamo anche un ritorno alla narrazione con Porte Aperte che è proprio ispirato al giudice di Racalmuto, Salvatore Petrone, il Cavaliere alla Morte, una sorta di testamento letterario e una storia semplice che esce proprio pochi giorni prima della sua morte nel 1989. Vediamo ora alcune delle sue opere. Le parrocchie di Regalpetra. È diviso in nove capitoli che sono nove storie. Nel primo capitolo abbiamo storie di Regalpetra dove descrive un sarcofago nel quale si trova Gerolamo del Carretto che è stato ucciso da un servo nel 1600. Questo personaggio è perfido, ha delle mani artigliate e nel suo sarcofago vengono ritrovati ori rubati per guadagnare qualche soldo. Nel secondo capitolo invece Scioscia fa una cronaca del regime, quindi parla del suo rapporto con il fascismo. Quindi racconta per esempio la sua esperienza del fascismo, quando ha saputo dell'omicidio di Matteotti, quando ha dovuto aderire ai Balilla e anche le sue letture di quel periodo. Nel terzo capitolo abbiamo il circolo della Concordia, dove abbiamo un circolo di nobili decaduti nel dopoguerra che però sono tuttora fascisti, quindi sono ancora fascisti in quel momento, nonostante il fascismo sia crollato e continuano a parlare di politica e di donne. Il sesto capitolo, il mio preferito, quello che ho dedicato anche una tesina all'università, sono le cronache scolastiche, dove emerge proprio l'esperienza di Scioscia come maestro elementare e anche la sua idea di scuola, di istruzione, che rimanda moltissimo agli insegnamenti di Don Milani nella lettera a una professoressa. Quindi la scuola, secondo Scioscia, non risponde all'esigenza e ai bisogni dei ragazzi degli anni 50, degli anni 60 e invece dovrebbe avvicinarsi di più ai ragazzi che sono stanchi, si sentono distanti dai contenuti che propone loro la scuola. Gli altri capitoli li vedete qui, dei nove capitoli. Io ho scelto di presentarvi alcuni tra quelli che ritengo più significativi, però anche i salinari o il diario elettorale, la neve e il natale meritano di essere letti in questa raccolta che di fatto è una raccolta di nove piccoli racconti, potremmo dire. Gli zii di Sicilia, che è una raccolta di quattro racconti, è stato pubblicato nel 1958, che si incentrano sulla storia d'Italia. Abbiamo la zia d'America, l'amorto di Stalin, il 48 e l'antimonio. La raccolta si apre con la zia d'America, che è un chiaro modo di dissacrare il mito dello zio Sam. Lo zio Sam è quello che vedete qui, questa immagine di I Want You, appunto il mito americano, che è visto come un dispensatore di doni e di libertà, ma in realtà è un mito che deve essere dissacrato. Il titolo di questa raccolta ce lo spiega proprio lo stesso Shasha nel capitolo La morte di Stalin, in cui si dice che Stalin veniva chiamato lo zii Peppi. E perché lo zio? Perché gli zolfatari e i braccianti in Sicilia chiamavano zii tutti gli uomini che portavano giustizia e vendetta. Per quanto riguarda il giorno della civetta, è un giallo di mafia. Infatti Shasha è molto noto proprio per i suoi gialli, per il suo romanzo di inchiesta anche, e viene pubblicato nel 1961. Il giallo è ambientato a Sciacca, che è un paese della Sicilia, e all'origine proprio di questo romanzo c'è l'uccisione di Accursi a Miraglia, che è stato ucciso da Cosa Nostra, e ci sono tutta una serie di riferimenti alle indagini che vengono svolte dal commissario Renato Candida. Nel romanzo, che si ispira a questi fatti avvenuti realmente in Sicilia, troviamo un'inchiesta del capitano, il marsciallo Bellodi, che indaga sull'uccisione di Salvatore con la Sberna, che era un impresario edile che non aveva voluto scendere a fatti con la mafia. E troviamo un passo famosissimo legato proprio alla società di quel tempo. Io divido l'umanità in cinque categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi miscusi, i ruffiani e in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà, parola che peraltro viene sempre associata alla produzione di Shasha. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi, quanto i ruffiani stanno diventando un vero esercito. E infine i quacquaraquà, il branco di ocche. Come vedete, quindi, questa è la società che viene fotografata dal giorno della civetta, una società di quacquaraquà, di branchi di ocche. Come dicevamo, il capitano Bellodi quindi indaga sull'omicidio di Salvatore con la Sberna, il quale non si era voluto piegare alla mafia. Però la storia poi si complica con delle ulteriori uccisioni, come quella per esempio di Paolo Nicolosi, che è testimone stesso dell'omicidio, di un confidente della polizia e tutta un'altra serie di dinamiche. Ma quello che conta di questo romanzo è la dinamica dell'omertà. Nel senso che secondo Shasha, la società siciliana, abituata alla mafia, cosa nostra, è una società omertosa. Perché la verità, anche se viene riconosciuta, anche se viene identificata, non si afferma a causa di questi meccanismi. Lei ha anche detto, sempre parlando della famiglia siciliana, che spesso è la prima cellula del sentire e dell'agire mafioso. C'è un proverbio siciliano che dice che il familiare ha sempre ragione, anche quando ha torto. Bisogna difendere chi ha torto come se avesse ragione. E come termina il giorno della civetta? Con una considerazione amara. Si sentiva come un convalescente sensibilissimo, tenero, affamato. Al diavolo la Sicilia, al diavolo tutto, pensa Bellodi. Rincasò verso mezzanotte, attraversando tutta la città a piedi. Parma era incantata di neve, silenziosa, deserta. In Sicilia le nevicate sono rare, pensò, e che forse il carattere della civiltà era dato dalla neve o dal sole, secondo che neve o sole prevalessero. Si sentiva un po' confuso, ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia e che ci sarebbe tornato. Mi ci romperò la testa, dice a voce alta, che infatti poi Bellodi abbandonerà la Sicilia, però poi dice che ci si romperà la testa, quindi cercherà di tornare e forse anche di cambiare un po' le cose. Ancora Shasha si interroga sulla scomparsa di Ettore Majorana. L'investigatore rappresenta la ragione, o se si vuole addirittura la grazia illuminante. Il romanzo poliziesco presuppone l'esistenza di Dio, della metafisica. E' un suo racconto di inchiesta che riguarda proprio la scomparsa di Ettore Majorana, un fisico che collaborava addirittura con Enrico Fermi e a un certo punto scompare. Scompare ma non si troverà mai più Ettore Majorana, però Shasha lavora su testimonianze di conoscenti e addirittura ipotizza che si sia rifugiato in un convento. Come ne vedete qui, chi l'ha visto Ettore Majorana e lui non si saprà mai più nulla. Ancora l'affermoro del 1978, che nasce proprio dallo sdegno che prova Shasha per l'uccisione di Aldo Moro. E Shasha si accorge che la stragrande maggioranza delle persone appoggia lo Stato italiano, nonostante lo Stato italiano si sia macchiato di una grave colpa, perché ha fatto morire i suoi cittadini, ha appoggiato la mafia, ha permesso la corruzione e Shasha è sdegnato da ciò. Infatti l'affermoro è un punto fondamentale per quanto riguarda proprio la tensione di Shasha sia per l'aspetto della politica e anche per l'attenzione all'uso delle parole, al fatto che le parole hanno un peso. E lui dice Io sono in un mare di ritaglie e mi aggrappo al tommaseo, al vocabolario, di fronte al caos della realtà e dell'affermoro in cui tutto scompare. L'unica certezza è proprio la precisione della lingua. Shasha lo ricordiamo anche perché dice che le parole sono come spade, come vi avevo già accennato, per quanto riguarda la biografia, Shasha ama molto il cinema, ma anche i suoi romanti diventeranno cinema, nel senso che i suoi libri vengono poi resi film, sia il giorno della civetta, il consiglio d'Egitto, a ciascuno il suo, il contesto, todo modo, porte aperte, una storia semplice. A moglie e figli scommetano. Tanto meglio se ha una famiglia numerosa, così si fa soltanto gli affari suoi. Naturalmente noi non possiamo parlare in una video lezione generica di tutti questi altri romanzi. Io vi ho parlato maggiormente del giorno della civetta, degli izzi di Sicilia, meritano però sia lettura che visione anche gli altri romanzi di Shasha. In realtà ha scritto moltissimo e anche romanzi che non ho io stessa menzionato perché la sua produzione è veramente molto fitta. Quindi vi consiglio di leggere Shasha perché vi darà delle sorprese. Grazie, alla prossima video lezione! Grazie.